Questa è la mia cucina. E' la cucina dei miei sogni? Minimale, pulita e luminosa. Sarà bianca, non ci sono dubbi. Sono una che punta in alto, sapete? E i doppi pensili mi servono per fare spazio a tante cose, anche alle mie ambizioni. Il freezer lo vorrei a cassetti, perché nei cassetti si possono tenere al fresco le idee e custodire i sogni. Sì, ad un tavolo più grande, tanto spazio in più per gli amici e le persone care. Attualmente la mia lavastoviglie si chiama marito. Vorrei cambiarlo con qualcosa di un po' più efficiente. Dette che il marito poi lo posso rotto male. Vorrei una bella fila di faretti incassati per vederci chiaro e una mensola con tutte le mie spezie sottomani, perché ci vuole pepe nella vita. Ho molte aspirazioni per il mio futuro. In attesa che si avverino, comincerai con un'altra aspirazione, una cappa nuova di zetta. E' la mia cucina da sogno. Ciao! Ciao!